A basciullo salento tenimo su le mare e con lo tamburiero la gente balla e suona ma sta musica etnica ed è una cartolina del nu salento pinto de notti e de tarante del nu salento pinto de notti e de tarante su etnico un cazzato percello tamburiero non deve diventare come un anello al naso tanti tini le mani all'amministratore che inventano i festival e pare tutto che che inventano i festival e pare tutto che e allora dico yeah mazzate pesanti collisoni e colliganti smazzate pesanti mazzate per tutti senza santi su etnico un cazzato una cosa raggiù dire se non parlamo muoi dimme quando i mu parlà su etnico un cazzato una cosa raggiù dire se non parlamo muoi dimme quando i mu parlà le scorie nucleari alla basilicata susciuti cu le lassano attuccato se ne tornano ma brindisi cerano tenimo lo carbone cu fanno la corrente e danno velenati a noi cu fanno la corrente e danno velenati a noi la mafia alla camorra caminte nu le bombe la gente ricattata pelu postu de lavoro le case condonate costruite sopra mare l'alberghi sulle spiagge le disca... scusati signori della nostra compagnia scusati signori della nostra compagnia siamo venuti qua e cantamo una poesia siamo venuti qua e cantamo una poesia scusati amici cari tutti l'omini non son pare celli lunghi, celli corti, celli belle, celli brutti celli lunghi, celli corti, celli belle, celli brutti e noi li vuori caponi, nanzino piatto dei maccarroni e noi li vuori caponi, nanzino piatto dei maccarroni senza carne, senza caso, laviamo in giallo naso senza carne, senza caso, laviamo in giallo naso lavichiamo delle mamme, casunto le chiuffesse lavichiamo delle mamme, casunto le chiuffesse le facendo delle ruffiane alle loro figlie stesse la madonna con gli santi semi tira a brucessione e lo prevede con la cruce cadia a tutti la soluzione la madonna con gli santi semi tira a brucessione e lo prevede con la cruce cadia a tutti la soluzione sincava piana salta e pirona salta e pente sincava piana salta e pirona salta e pente che son i dai romani sempre al cino un portadienti che son i dai romani sempre al cino un portadienti meno male che in televisione mo c'è ne sempre le signorine meno male che in televisione mo c'è ne sempre le signorine con l'imbellizzi lo rugate fanno scemo unire con l'imbellizzi lo rugate fanno scemo unire meno male che lo governo dice che non ci stanno aumenti meno male che lo governo dice che non ci stanno aumenti questa voleta nuova non mi basta lo stipendio questa voleta nuova non mi basta lo stipendio meno male che lo governo dice che fanno le riforme meno male che lo governo dice che fanno le riforme tra picca pompa a Milano ne bisogna lo passaporto tra picca pompa a Milano ne bisogna lo passaporto allora ancora questi qua li mettiamo rilasciamo cinque sei da questi che c'è già la fila di bambini guarda cappelli ma lo mostro eh ok ok allora fatti entro con la parte entro con la parte si si ecco eh? troppo piccoli dovevi venire da una mano lo sai ciò che dire sei esperta di piante eh no è degno se questo ne è sì ah ah questo è defendo si faccio la declione oh no questo è defendo il fondo si però ma quando vi attenzare mangio il cuore dunque, dunque, dunque i vintati durissimi tu le vederò da lento i vintati durissimi tu le vederò da lento ne vi un lomburietto tutti quanti faccio ballà ne vi un lomburietto tutti quanti faccio ballà e quindi vede se c'è lì e quindi vengono imparato e quindi vengono imparato non la mande va a tu ammirai guarda, si chiude il tuo padre che scarica ma è da fare proprio come chiude qua e ti vede tu però sai capisci? uno o due? davvero? si, si ah, quella davanti a ieri sera è il fotografo, eh come devo sospirare? il chiosco soveruno per vedere tantavanti ci siamo fatte nella testa di Google no, è su YouTube ha detto 7 bellissimo, bellissimo ma l'hanno finito col potazio? ma siete con la presa? si, di con la presa? cosa ne pensate al senso? bellissima noi vorremmo venire prima ma io non posso dire perché ho avuto impegno di lavoro vabbè adesso ti sei venuto cosa ne pensate al senso? bellissima ma lei ce l'ha già stata lei ce l'ha già stata perché lei parla la vita lo sole luma vabbè parlateci un po' del senso cosa trovate paragonato il senso con la calabria allora quello che è bello è la struttura proprio delle sue tradizioni dei suoi modi di fare quello che è brutto invece un pochettino è ti dico il bello e il brutto ecco che manca di di servizi manca di un pullman manca di un negozio attrezzato qua manca di un genetico ma qui o nel Salento? no qui io ti parlo siamo restati qua tre giorni siamo stati qua pochissimi abbiamo potuto girare poco però è bellissimo io ci ritorno sicuramente sicuro troppo bella e poi la cosa ancora più bella è la gente grazie grazie questa è tutta la città è tutta la città eh tenendo alcuni sardini le città ma queste sono tutte proprio diverse tutte queste una beh poi hanno fatto la foto delle città no 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 tutto un po' più rossa noi con città mi dà la calabria qui è la città è la città e veniva la gente come pare teni la città facendo un città e poi lo vengono c'è tutti i muri dei città ogni altra non è l'unico ogni altra è l'unico vecchietto dicendo quindi ti ci siamo dicendo bravo il giorno tanto sia No Tu cumbara, Donne, tu cumbara? Non ci risalio Alla Sando, tu accade l'imagine, tu stai al capito? No, non ci sono le cose Meno male che è televisione, ma ce ne sempre le senti a dire Domingo, ci parli? Ma noi abbiamo degli amici di Torre Paduli, noi però, che suonano una pizzica. Tutte la pigliare longa solo per cogliere le pighe Ma belle fighe No, questo Tutte la pigliare longa solo per cogliere le pighe Ma belle fighe Tutti il ciosco, sole e luna Ah, ciosco e quelle luna Ah, devi trovare un ciosco Ma non è Cosa dobbiamo scrivere la località? Castiglione Castiglione No Cosa c'è questa? Ma non sono No, non sono C'è scritto te Eh, selepatore, cantore e il suo gruppo Ah, ecco Il titolo? Il premier, il leader, il lui Sì Comunque anche questa piccola opinione Anche questa piccola opinione Anche questa piccola opinione la porterò su... Sì, sì, no, 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 la città splendida La posta, la posta Sì, sì, sì Ma le persone splendide Sì, mi ritrova, grazie 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 a te Non l'avete ancora trovato? No Ma con due giorni, ma poi... Non ho visto i casi niente Com'è? Con due giorni non riesce a vedere niente In Calabria dove poi? Noi siamo di Cosenza nella precedenza Cosenza Se uno si è staccato con... Sole e luna Se tu non la vuoi fare 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 La notte no il giorno la verterai Non te la verterai Anche voi avete posti meravigliosi, no? No, il mare abbiamo fatto la sera Beh... Sì, ma anche lì per la sera Ioni... Abbiamo gli alberi giganti di salle che stupendi Lo Ioni lo dico... E' il nostro mare Ma è sottileggio E' proprio un... Un'unico Foto è sicuramente diverso Che... C'è la sabbia La ghiaia La... Come qua Castagliate non c'è proprio Un altro 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 no viene vai è bene ai ai la sentiva no viene vai è bene no viene va è bene ai ai la sentiva